ok vediamo adesso la metatrader dal computer come ti dicevo qua in alto c'è il menu con file visualizza inserisci insomma le varie voci per esempio in visualizza vedi tutte le possibili lingue che puoi scegliere per la metatrader ed anche le sezioni più importanti quindi symbols simboli la market watch terminale tester strategia il navigatore e le relative shortcut control m inserisci qui puoi inserire degli indicatori il testo linee nel grafico grafico puoi fare delle operazioni sui grafici nel senso di cancellarli cancellare tutte le frecce eccetera decidere se inserire i volumi la griglia ingrandire e rimpicciolire il grafico mandare un nuovo ordine eccetera ok tutte cose che poi possono essere fatte come ti dicevo con la barra questa seconda barra dell'icone questo ad esempio il navigatore il navigatore che è qua vedi se lo clicco scompare se lo clicco appare possono essere spostati il navigatore può essere spostato come la vista del mercato comunque teniamolo di qua il navigatore ok poi questo è il market watch la vista del mercato questo qua come ti dicevo puoi ora chiudiamo questo grafico vediamo tutti i grafici se prendo un grafico questo è s&p 500 lo sposto in questo spazio vuoto mi apre il grafico h1 di s&p 500 ora ok posso modificare questo grafico anche se non è necessario per l'algoritmo trading vediamo come vedi puoi modificare i colori e poi cambiare lo sfondo da black per mettere bianco oppure ecco le scritte le mettiamo nere eccetera poi possiamo modificare il colore della delle candele toro candele orso eccetera vedi cliccando ok salverà il grafico zoom poi adesso vediamo le barre qua su c'è anche la possibilità di vedere le candele o le linee grafico a linee cliccando destro tolgo la griglia posso inserire i volumi cliccando posso ritoglierli vedi posso zoomare con il più rimpicciolire con il meno quindi vado nella tastiera clicco più clicco meno mi zoom il grafico o meno cliccando qui mi sposta il bordo del grafico per avere più spazio alla destra posso modificare la scala insomma posso fare un sacco di cose poi posso da qua su inserire supporti resistenze questa è una linea orizzontale posso disegnare trend line posso inserire linee verticali eccetera ma ritornando alle sezioni che ci interessano qua c'è la lista dei simboli vedi i simboli che sono evidenziati di giallo sono quelli che ho selezionato ad esempio qua selezioniamo anche l'indice brasiliano dopo averlo selezionato lo troverò qua in fondo se lo sposto sopra questo grafico si aprirà il grafico del dell'indice brasiliano ok poi non ti ho detto che un formato può essere salvato io qua clicco salva formato e me lo fa salvare in questa cartella poi vado qua salva formato ora lo applico uno che avevo che ho già fatto come vedi così non c'è tutte le volte da formattare ogni grafico poi noi utilizzeremo i template per aprire automaticamente tutti i grafici che sono presenti nel nostro portafoglio senza dover aprirli manualmente comunque ecco questo è un utilizzo poi altre cose ecco da qui fai la compravendita quindi qua per esempio il buy stop e il buy limit oppure qua facendo cliccando trading con un click ti abilita qua questo pop up che ti permette di scegliere quanti lotti comprare se andare long o andare short clic facendo soltanto con un click soltanto ecco vediamo magari no adesso mentre sto registrando è sabato quindi i mercati sono chiusi non posso farti vedere ma comunque cliccando poi vedresti la posizione qua in posizioni aperte nel terminale l'altra sezione come ti dicevo qui ci sono una due tre 4 5 6 7 8 9 10 11 11 schede possibili le più importanti sono posizioni aperte dove vedi la lista dei trades aperte aperti lo storico delle operazioni di questo conto poi in fondo ecco vedi consiglieri qua ci sono le comunicazioni che fanno gli expert advisor e non solo insomma quello che succede per esempio qua vedi che ha inserito l'rsi nel grafico usb oppure come ti dicevo qua ci saranno i printf degli expert advisor ora non so se ce l'ho uno al volo di printf beh le ho cancellate comunque ecco se ti ricordi nel video dei cicli qui insomma come ti dicevo anche la lavagna quando fai printf l'expert ti stamperà qui è utile questa cosa per per debagare per vedere se viene letto viene risfettuato l'operazione correttamente eccetera poi andando sotto ecco qua c'è la sezione del dello strategy tester lo strategy tester che ci fa selezionare l'expert che vogliamo andare ad ottimizzare lo strumento sul quale vogliamo far girare l'expert la modalità di backtest di cui questa qua solo prezzi con apertura può essere un buon compromesso in termini di velocità e qualità il periodo il time frame su cui vogliamo far girare l'expert advisor in backtest lo spread dello strumento poi da qui da proprietà esperte ci saranno tutti dei parametri che possiamo modificare di quell'expert alcuni da ottimizzare ora questo è un expert a prima vista abbastanza complesso però non ti spaventare insomma ti verrà spiegato tutto e vedrai che sarà semplice ma questo expert permette veramente di fare un sacco di cose in combinazione con altri expert permette di fare veramente un sacco di cose e per farti capire tutto ciò che è relativo all'acquisto all'apertura del trade alla gestione del trade un sacco di altri filtri sono già scritti ciò che deve fare un programmatore che utilizza i nostri template è modificare soltanto questa parte qua relativa alle condizioni d'ingresso mettere un if qua a cappello di questa parte di codice in cui ci saranno le condizioni ad esempio con un indicatore se ci troviamo in un rsi di per venduto insomma se l'rsi è minore di non so 30 e ci sono queste altre condizioni che poi ti spiegherò tranquillo allora compra allora ritorna true poi questo si collegherà con altre parti di codice già scritto che non dovrai modificare e quella expert aprirà una posizione quindi qua soltanto un if per decidere quando aprire e altri if per decidere le condizioni di chiusura tutto il resto è già fatto è già fatto quindi molto lavoro molto agevolato poi qua su c'è ecco per andare dove sono andato ora la meta editor c'è questo pulsante qua ecco come ti dicevo per inserire nuovi expert vai qua nel meta editor navigatore della meta editor clicchi su una cartella e fai apri cartella ti farà vedere ecco c'è questo percorso poi puoi andare qua a fare clic destro invia a desktop così la prossima volta vabbè o torni qua comunque per comodità puoi avere la cartella expert direttamente nel desktop e accedere direttamente qua e sposterai gli expert advisor che i tuoi expert advisor che hai creato qui in questa cartella così che li ritroverai sia nel navigatore sotto consiglieri esperti sia nello strategy tester dove potrai andare a scegliere quella expert advisor su cui andare a far girare il backtest e l'ottimizzazione ok finiamo con il modo per importare i dati per importare i dati possiamo andarci da strumenti centro storia oppure con la shortcut f2 qua per esempio adesso importiamo i dati del gold a un minuto importiamo vedi qua mi fa scegliere gli strumenti tutti questi sono i gruppi di strumenti come vedi ti dicevo c'è tipo cash indices dove hanno il nasdaq che si chiama usa tech se ci va in mouse over sopra ti dice che è il nasdaq 100 cash index poi ad esempio ecco qua ce ne sono tanti cfd forward abbiamo il bovespa e l'indice brasiliano e cocoa, coffee, corn eccetera dunque andiamo sui gold, gold un minuto importiamo i dati a un minuto del gold cliccando importa ci mette un po' perché i dati a un minuto sono molto grandi sono circa in base al numero di anni chiaramente ma il nostro andando dal 2007 al 2019 è circa 300 mega quindi ci mette un po' come ti dicevo va scelto il separatore che nel caso dei dati di backtest market è il punto e virgola e poi lo shift, lo scostamento di 7 ore per trasformare i dati dal timezone di Chicago a quello italiano vedrai dicevo che se metterai i parametri giusti di separatore e scostamento avrai la riprova che la metatrader ti ha letto i dati perché qua vedrai dei dati altrimenti qua sarà vuoto clicchiamo ok aspettiamo un attimo ecco fatto la metatrader ha importato i dati a un minuto probabilmente li avevo già importati vabbè comunque questo è il processo per importarli clicchiamo chiudi e adesso vedremo se andremo nel grafico del gold dove eccolo qua gold clicchiamo da tutto schermo doppio clic clicchiamo un minuto forse ci metterà un po' ecco andiamo tutto indietro e vediamo che qui ci sono ecco i dati dal 2007 dati dal 2007 che ce li ritroveremo qua nello strategy tester andiamo a fare un backtest su un expert advisor che abbiamo che sta girando lanciamolo su con questo ecco qui questo expert hpd high potential days nel gold col periodo un minuto solo prezzi di apertura spread 35 che è quello del gold medio del gold e andiamo a lanciare il backtest aspettiamo un attimo qua stamperà via via tutti i trade che fa buy compra modifica chiude compra modifica chiude ecco e questo è il grafico del backtest questo è un bellissimo backtest chiaramente è stato fatto tempo fa sta continuando a funzionare questo expert e qua come ti dicevo c'è la lista di tutti i trades che ha fatto qua nel rapporto vedrai delle varie statistiche come il profit factor il drawdown massimo della strategia la percentuale di vincita eccetera ok poi come ti dicevo questa sezione tutta la pratica del backtest per arrivare a creare una strategia gli verrà dedicato del tempo gli verranno dedicati dei video adesso è solo per fare una panoramica generale di tutto ciò che è possibile fare ok bene per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo